1, 2, 3 Mamma Dima, il suo grande pieno da sottile Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Mamma Dima Animation TV Oggi andremo a capire il ruolo del tecnico audio Un ruolo abbastanza importante Che ha alle sue spalle grandi responsabilità Poiché gestisce tutto l'impianto audio del villaggio Ricordiamoci, durante tutta la stagione Il luogo in cui noi tecnici viviamo è la cabina di regia Adesso andremo a vedere delle piccole nozioni o accorgimenti Da prendere durante tutta la stagione Affinché non accadano così degli avvenimenti spiacevoli Che possono intaccare te, l'agenzia o gli ospiti Ricordiamoci che ogni mattina vanno collegati computer, mixer, casse e microfoni Ragazzi, siate gelosi della sala regia E non fate avvicinare nessuno Soprattutto se un ospite è bagnato, esce dalla piscina o dal mare La mattina, appena si è svegli, dopo aver collegato tutto Dopo aver fatto partire la musica La sigla, soprattutto Bisogna fare un cecchietto dei microfoni Fa niente che il cecchietto è fatto anche la sera prima È sempre meglio farlo ogni mattina Prima di pranzare Riponete pc, mixer e microfoni Al proprio posto E al riparo, naturalmente, sempre da luce e d'acqua Quindi, prima di andare a pranzo Spegnete e scollegate le casse E se sposte al sole dalle casse Copritele Un in oro copri-casse Il pomeriggio Poco prima di far partire la sigla Svolgite di nuovo tutti i procedimenti Cioè, riattaccate le casse, il mixer, il computer Fate il cecchio di microfoni E fate partire la sigla La sera, dopo aver cenato Almeno 30 minuti prima dell'inizio della baby dance Bisogna andare in sala regia E bisogna collegare, appunto, tutta la strumentazione audio E in più quella delle luci Che ci serviranno per lo spettacolo della sera Fate poi un cecchio delle luci Se siete sole Oppure aiutati dal vostro tecnico luci Ricordatevi, ragazzi La baby dance è uno dei momenti più importanti Quindi non devono mai sorgere problemi Con i microfoni O con le tracce di produzione Prima dell'inizio della serata Che può essere serata cabaret, varietà o serata giochi Controllate che tutte le pile Dei dispositivi audio Siano cariche E in base alla serata che si svolgerà Preparate i microfoni Che vi verranno richiesti dal capo animatore A fine serata Riponete la strumentazione audio e luce al posto Coprite le casse Toglitele dai supporti E staccate i cavi La sera è un momento molto delicato Per la parte audio Perché la sera Soprattutto l'estate Nei luoghi di mare C'è tanta umidità Prima di andare a vedere la sala di regia Controllate sempre le previsi di metodo Il giorno successivo Perché nel caso in cui il giorno successivo Porti pioggia Voi potete portare la strumentazione audio Al riparo dall'acqua Dopodiché potete andare a dormire tranquilli La vostra giornata da tecnico Da DJ È terminata Ragazzi è stato un piacere Farvi questo tutorial Per il tecnico audio in animazione Ci vediamo alla prossima puntata Della Mamadema Animation TV